Il mercato del girone C di Lega Pro, nonostante la pausa forzata per via del Covid, entra nel vivo. Doppia ufficialità in casa potenza. La società lucana ha annunciato l'accordo con Azzedin Didac e Giuseppe Zampano. Il primo, classe 2000, arriva dal Como, con cui ha disputato la prima parte di stagione in Serie B, dopo essere arrivato in estate da un club olandesi del Den Bosch. Zampano, classe 1993, arriva dalla Fidelisandria e vanta 111 presenze in cadetterie con le maglie di Crutone, Venezia e Reggiana. Società che ha sondato il terreno anche per Francesco Cosenza in uscita dall'Alessandria. La Fidelisandria ha trovato l'accordo con Cristian Rigio, difensore, classe 1996, con la maglia bianco-verde, ha totalizzato 22 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Tutto fatto in casa Catanzaro per l'arrivo di Dimitris Sonas dal Perugia. Il centrocampista greco si legherà al club calabrese con un contratto fino al 2024. Cinque reti per Simone Russini in questa prima parte di campionato con il Catania. La situazione in casa Etnea potrebbe portare l'ex Cesena a cambiare area. L'attaccante è entrato nel milio del Foggia per questa sessione di calciomercato di gennaio. Andrea Zanchi è un'idea della Turis. Il club Coralino potrebbe pescare a Catania per rinforzarsi in questa sessione. Il laterale, ex Rieti, è stato allenato in passato da Caneo, arriverebbe in campagna soltanto in caso di una cessione di pari ruolo in Rosa.